iniziamo il viaggio di pino ciao elena ciao 5 4 3 2 1 ok allora lo vedo e non è non ha le sue sembianze ma è lui probabilmente in una vita passata alla pelle un po scura olivastra è praticamente è un capo tribù molto molto venerato a quei copricapi in oro in metallo direi meteo oriente in cima ok ti dà l'autorizzazione sì mi fa vedere questa cosa qua con la sua ascia tipo un ascia in mano come scettro mi indica tutto il popolo sotto che lo venera ok e mi dice mi fa vedere come come riusciva a controllare queste persone e dal permesso facendomi vedere questa cosa qua vabbè gli chiedo di darci un permesso più normale da pino si esce praticamente come se uscisse da quel costume esce poi pino proprio come oggi e mi dice lì mi sentivo protetto comunque ti do consenso vi do consenso va bene vibrazione 7 miliardi consapevolezza 182 alto di s 37 vite 1812 cervello 9.3 progetto ti dico ti faccio la parola strana in falita in fa in falita perché la cosa vuol dire in falita se praticamente mi fa vedere un cerchio proprio un cerchio ok come base e poi tutti del delle spade che infilzano ma è una parola che non esiste questa esatta quante spade sono 6 vabbè a cosa corrispondono queste sei spade allora due ai piedi due alle mani una presso solare una la fronte terzo occhio sono delle entità sono degli impianti o niente tutto quello è praticamente quello che gli fanno quando fanno le abduction e come la loro lo immobilizzano sul tavolo con queste spade e collegano le spade a una sopra soprappongono in alto sopra di lui il corpo un robot tipo che dovrebbe essere suo clone e dalle spade mandano le informazioni sulle al clone sopra di lui come questo colore dovrà in quei momenti di e sopra di lui ed è tipo molto grezzo ancora nel senso che proprio solo la struttura di un robot e poi farebbero che farebbero animare anche con le sembianze non è detto le sue la seconda dello scopo e vedo che c'è tipo un vetro e oltre c'è tutta una fila di altri con cloni posizionati in piedi alcuni già diciamo con delle sembianze e altri invece grezzi nome della ps rosa nome della pie tulipano quindi rosa al fiore se rosa di che colore rosa entità e terca allora un serpente con quattro teste non tanto lungo un serpente corto con quattro test molto largo ma corso un grillo di che mi sento i due sì 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 un grillo se mi sento i desi poi c'è una pantera nera ma una specie di granchio più o meno granchio un crostaccio potrebbe sembrare un gran una via di mezzo tra sia una ragosta e un gran che una via di mezzo secondo universo se c'è quello lì sì basta idl se ce ne sono due mentali allora ce n'è una di livello 5 poi c'è fumo di livello 4 si chiama fumo si ha il fumo di sigarette di quella di livello 5 come se fosse un paracadute che lo tiene in alto non gli fa non l'ho fatto non gli fa toccare i piedi a terra e come si chiama non ho anche non averlo un nome ha infatti è qualcosa che c'è la fede di scriverti si proprio si su una gru che lo tiene a poter riserva sempre sembra proprio un paracadute c'è una terza una terza di livello 2 nuvolaria dice c'è anche una quarta la quinta no no io posso dire il quella parola che inizia con la r in cui tu che il tuo lavoro ok solo quello ovviamente per me ovvio non era per sapere impianti dove come a chissà che servono chi li ha messi allora un impianto mentale delle entità anche l'anima se le entità mentali è un bastone d'acciaio in mezzo alla testa che fanno girare e quindi è come se mischiassero cambiassero la posizione dei pensieri e li mischiassero fanno girare come se fosse una centrifuga di pensieri poi c'è dove dove inseriscono quelle spade ci sono come degli incastri delle strutture di metallo dove queste spade entrano precisamente quindi qua sul presso solare mezzo ai due palmi delle mani e in mezzo alle due piante dei piedi poi c'è una specie di gabbia di se gabbia struttura metallica qua sul tra il torace e l'addome quadrata basta ci sono degli impianti che derivano dal suo lavoro lui lavora in radio allora ora no ma anni fa erano riusciti a collegarlo al alla loro ipnosi mi viene da dire quindi proprio a livello mentale c'era una specie di struttura metallica all'interno fatta di fili all'interno della testa dove lo agganciavano proprio e immettevano l'ipnosi mentale adesso sono cinque anni più o meno che non riescono più si è accorto e riesce a contrastare questa cosa quindi non c'è più quell'impianto lì no ma come era fatto ea cosa serviva era una struttura di metallo circolare nella testa con due ferli che venivano in su ok dove diciamo la la radio per cui lavora ok in eterico a una struttura di pensieri come se fossero un' infinità di frasi strutturate messe in un certo ordine che formano la struttura diciamo non della radio e con questi ganci venivano attaccati proprio la struttura della radio con queste frasi che rappresentano il pensiero ipnotico di quella radio lì ok onde radio nascita della radio primo dicembre 2020 e 1925 se 1925 budapesta sto leggendo adesso da internet e io non lo sapevo ingheria ingherese è la lingua che più assomiglia a all'antico sumero l'antico sumero non si sa bene da dove sia finita da dove sia venuta e se vogliamo quella che assomiglia di più a una lingua aliena o telebuttoni così come idee radio correlazioni con la influenza spagnola altra teoria accreditata non accreditata interessante sicuramente in missione delle onde radio nel mondo influenza spagnola c'è correlazione dimmi solo cosa vedi allora quando mi hai detto budapest allora ho visto proprio il fiume che divide la città in due e mi fanno vedere la parte di buddha ed ho visto subito questi due palazzi principali grossi con queste antenne ok quando tu mi hai detto la lingua ok che deriva dal sumero su queste antenne era come se ci passasse le collegava appunto la lingua sumera quindi ho visto subito il collegamento con dei messaggi dall'alto ok trasmessi qua e diventava come se diventasse tutto un colore tipo tramonto dietro quando sono attivi e questi passaggi quando mi hai detto onde radio influenza la radio influenza spagnola onde radio la spagnola ho visto visualizzato la spagna poi ho visto delle donne vestite in bianco in campagna ok e ho visto poi di colpo ho visto un collegamento tipo radio tipo quello che ho visto a budapest ok diretto verso la germania contare comunque il collegamento con collegato con la germania quindi c'è questa trasmissione di informazioni dall'alto va bene questa domanda non sembrerà un po strana a pino a meno perché pino in tutta la sua vita ha scelto proprio di lavorare in radio causa esoterica di questo lavoro è come se volesse esprime la sua creatività mi viene ma rimanere nell'ombra cioè non metterci la faccia sì non per non prendersi la responsabilità ma come se pensasse che fino a lì può arrivare poteva arrivarci mettendoci la faccia non era l'altezza va bene chiamiamo nel cinema un po di persone la madre la sorella della figlia vengono tutte e tre la figlia viene solo perché ci sono la nonna e l'anzia quindi la sorella di pino c'è sì quindi la madre si sarebbe buttata dal ponte se non ci fosse stata ma ha detto abbiamo evitato suicidio scherzo la madre anche come vedi la madre la madre la vedo molto affaticata fisicamente se molto esile e affaticata però la vedo lucida il presente neutra nel senso che come se fosse un'informazione nuova da prendere che suo figlio vuole trasmetterle però se viene viene per sé sì sì ma non si viene per sé ma nel senso rispetto a quello che che vedrà e sentirà all'oscuro ecco no viene fidandosi di pino ecco la sorella la sorella è molto entusiasta infatti continua a toccare là dentro la mamma dire guarda che bello c'è molto non vede l'ora che inizi la figlia che però deve venire solo ed esclusivamente per se stessa non perché è venuto diciamo che è come se sera per fare un favore suo padre non sarebbe tenuta essendoci la zia e la nonna diciamo che ha detto ok vengo anch'io se io aggiungo la mamma della figlia si viene quasi come se però avesse come se si sentisse in colpa al senso questo mi viene da dire tu mi offre la possibilità di venire a vedere una tua cosa e io ho un po di rancore nei tuoi confronti mi viene questa cosa qua quindi viene vuol vedere molto curiosa ma un po come se si sentisse di troppo ma se viene bene per sé non stessi infatti però quello che vuole venire tutti i colleghi della radio che vogliono venire 2 un uomo e una donna va bene un po di cause esoteriche causa esoterica del diabete allora vedo in eterico c'è questa cosa strana difficilmente la vedo ma è come se ci fosse stato qualcosa che l'ha agganciato e gli ha creato uno spazio dove lui sente il vuoto quindi sentendo il vuoto il corpo reagisce quando riceve il cibo come se dovesse trattenere mi viene da dire più del dovuto dei zuccheri e di energia in questo spazio vuoto quando lo spazio vuoto è riempito il cibo viene metabolizzato normalmente ma tutte le volte che quello spazio vuoto si accumula lo zucchero si accumulano gli zuccheri causa esoterica dei problemi alla schiena mi viene da dire quella gabbia che acqua è come se fosse lo rendesse più rigido sì esatto rigido e più pesante problemi alla milza causa esoterica nomi di canine è un po una conseguenza dello small di tutto metallismo un po affaticato di questi zuccheri che si accumulano in quel posto vuoto acufeni è legato molto al lavoro è come se dovesse sia un accumulo di informazioni che non vuole c'è proprio questo intasamento nell'orecchio vedo che crea questo suono in quei momenti più problemi allo sterno lo sterno allora l'impianto che acqua che agisce anche su tutto lo sterno quell'impianto dove gli infilano una delle spade va bene andiamo a quel gioco adolescenziale quasi le crezzate che si fanno da piccoli andiamo alla guarda che è che caso che io sono a chiedere proprio quella cosa lì ma non erano i punti ed effettivamente è venuto fuori anche per gioco lui ha fatto una seduta spiritica causa esoterica della mia domanda guarda che ce n'è a voglia io ho citato proprio un caso come il suo dove i punti erano un po sì ok però poi sono andato a chiedere nello specifo se era stato fatto qualche cosa da piccoli di cui ci ha parlato ed è saltato fuori una solita spiritica sta male in generale se la prima immagine che mi viene proprio più in generale sul fatto del motivo per cui tu se hai fatto la domanda ed è più in generale rispetto alle sedute spiritiche ok vedo come se ci fosse una giostra eterica ok dove partecipanti alle sedute spiriti che vengono messi a una giusta eterica rotonda ok con dei bracci in cima ai bracci ci sono queste postazioni dove le persone vengono posizionate e l'entità l'energia che viene chiamata al centro si mette al centro e fa girare la la giusta a suo piacimento quindi è come se sce che erano le persone a livello energetico durante la seduta spiritica ok quindi scombussolano i livelli energetici e dove ci sono i livelli più bassi riescono agganciarsi interferendo le persone da quel momento in poi sera eravamo che punto la ruota la giostra la giostra che in eterico sono le sette specifici che ok una fatta una volta sola ci sono conseguenze in questo momento nella vita di pino no in questo momento no ha avuto uno strascico da lì per qualche giorno sono riusciti a ciocciargli un po di energia ma poi è riuscito tenendo con la sua modalità diciamo di ironia e leggerezza esatto e leggerezza riuscito sale pian piano le vibrazioni quindi poi non l'hanno interferito ma hanno solo preso un po di energia per qualche giorno ma perfetto l'abbiamo verificato stesso episodio un po giovanile a parentesi scientologi mentre lui raccontava di quel test che fanno come se strada la strada e poi ti portano a fare il test quasi come se fossi un eletto no ti faccio un test e poi ti assumo in realtà mentre fanno il test è come se gli fanno un rito fanno un rito lo vedo mentre fa il test in questo posto è come se sopra mentre lui è concentrato fare questo test è come se sopra passasse passassero delle entità e fanno un rito quasi come infilano nelle persone dei pensieri ok e fanno in modo poi di agganciarle quindi poi finito il test è come se lui avesse cancellato dei momenti gli appaiono solo i pensieri che gli sono stati inseriti e gli dicono ok sei assunto quindi inizia a entrare appunto nel mondo di scientologi essendoci stato solo per sei mesi e essendo lì solo per curiosità già avendo una certa diffidenza non sono riusciti diciamo a ipnotizzarlo completamente ma anche lì pian piano poi col tempo si è diciamo l'influenza di scientologi su di lui è andata scemando ma per un po di mesi questi pensieri comunque gli sono girati nella testa ecco c'è qualcosa di adesso ha in qualche modo influito no qualche interica o mentale c'era un entità mentale di livello 3 proprio perché lui è stato poco che è proprio direi la ruota del pensiero mi viene da dire che è proprio un collegamento dove fanno passare ciclicamente le loro i loro mantano le loro informazioni avuto se esatto ha avuto qualche influenza sul sulle sue relazioni con le donne per i successivi cinque anni che allora lo facevano agire con degli atteggiamenti che lui quasi non si ricordava neanche di mettere in atto che hanno fatto sì che queste donne si allontanassero un paio di donne viene da dire in quegli anni lì non la donna della sua vita cioè la madre di sua figlia o le donne della sua vita che poi lui ha indicato come la madre la sorella e la no 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 proprio relazioni sentimentali un paio di relazioni l'abbiamo verificato ma non c'è però non fatto bene a verificarlo ruolo di tamburi portale aureo come sempre tutti i parenti di pino e chiamiamo in primis chiamo tre persone ma soprattutto in primis il padre mancato quando dire è rimasto a quel momento la non si è ancora reso con non si è più sganciato da lì come se vivesse ancora quando pino ha 13 anni quindi gli parla vedendolo come se avesse 13 anni gli dice dai su alzati tardi finisci di mangiare continua con questa cosa dai su alzati e tardi finisci di mangiare chiamarlo pieno è incastrato lì non l'uomo davanti al bambino ma due uomini uno di fronte all'alto rimane un attimo confuso un po confuso e spaventato chi di apino si vuole prendere di fronte al padre con la sua mano destra la mano sinistra del padre e con la sinistra la destra cioè completamente dall'alto formano un cerchio non un otto non incrociate ma l'esterno con l'esterno cioè lato destro col lato destro dice non ho memoria di tutti questi anni il padre da questo contatto dovrebbe passare l'informazione che più in assorbito dalle nostre sessioni una pic non completa ma una vic ma si fatti ma qualcosa gli arriva ma sta lavorando ok qual è perché per forza per forza no però secondo me è molto probabile che ci sia un'interferenza attaccata a questo padre tanto da renderlo ancora lì bloccato disco rotto sì è come se l'avessero fissato ad un pannello da dietro che è unito ad un manico piatto ok e dietro c'è ma la specie di non ti so dire sembra un mostro con delle unghie lunghe bianco però che lo tiene fermo lì lo vede il padre adesso adesso pian piano che sta rivivendo il momento della morte si è della sua morte quindi si sta sganciando dalla dall'interferenza e inizia a lasciare i vestiti di questa vita e sta diventando neutro sono sempre ancora a formare il cerchio sì 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 e che succede che adesso vede tutta la vita come un'esperienza quindi dall'alto gli vestiti di quella vita e l'interferenza sono per terra senza movimenti c'è piatti come se fossero nulla e si rende conto l'informazione che gli arriva e che dopo la morte è riuscito sono riusciti a incastrarlo lì per non fargli vedere la sua esperienza di morire anticipatamente come padre come vede negli occhi il figlio adesso allora da questa dimensione tra virgolette avete oltre e vede l'essenza della sua energia della sua ps vede c'è questa c'è una forma interna ok che sembra c'è la stessa forma del corpo tipo un bordo trasparente di energia biancarosa la sua ok e all'interno c'è un po di energia più concentrata che il posto dove si mette la ps tra virgolette quando interagisce con noi c'è il posto dove sta nel nostro corpo tra tra virgolette perché in realtà è ovunque però è come se l'informazione della ps arrivasse da lì ecco a questa sfera più o meno nell'addome cosa vuole dire al figlio come i libri uniforme lo senti molto si sente molto in sincronia col col figlio in questo momento lo stesso ritmo scandito da dal movimento delle vibrazioni c'entra il cuore di pino al cuore di pino e la trasmissione verso l'esterno ecco della vibrazione interna come se fosse un amplificatore di come vibriamo noi internamente come vibriamo noi su altri piani quindi fisicamente c'è questo amplificatore che è il cuore ma quello di pino o quello di tutti tutti e questa vibrazione si trasmette al padre sì 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 allora se io guardo sì diciamo il cuore va verso fisicamente verso l'esterno il padre vibra con la vibrazione diciamo su altre dimensioni di pino sento lui disincarnato a diretto contatto con le vibrazioni interne cosa vuole dire pieno al padre allora si commuove si sta commuovendo lo sta abbracciando ci sono contenti di rivederti e di poterti liberare da questo loop in cui eri incastrato sono stati insieme in altre vite allora erano lavoravano come in una miniera d'oro a setacciare ma in una miniera scusa in un canale fiume non so vedo del si dell'acqua un fiume a setacciare l'oro a trovare l'oro e l'ho trovato loro erano lavoravano per questa per altri un po lì lo trovavano si vedo che trovano in questa vita l'han trovato il padre non ha fatto in tempo perché è andato via così presto qual è l'accordo tra loro due di vivere solo 13 anni insieme allora l'accordo per cui è dovuto morire così presto allora l'esperienza della psd pino loro di essere accudito e sostenuto fino a quando c'era estratto bisogno quindi fino a quando era bambino e fare l'esperienza in autonomia di diventare uomo senza riferimenti in autonomia scoprindolo autonomamente e vedere come fosse dato l'esperimento va bene accanto al padre chiamiamo il cugino e il cognato e al senso il cugino arriva e ha un taglio in testa e invece il cognato arriva su un arley division con un sicuro non ho capito il cognato arriva con su un arley devason su un arley division con un sigaro tos che pino scrivi mi è se vuoi dimmi qualcosa se andava sul premoto cosa vogliono lasciare un messaggio come li vedi che succede il cognato circolo sulla moto non si rende conto è arrivato in moto sto chiamato arrivato in moto lui vaga in moto secondo lui il cugino è rimasto come se fosse congelato al momento di quel taglio lì non so se corrisponde con la morte o è un altro episodio però è proprio congelato immobile vick quella vera adesso a tutti e padre e cugino cognato il cognato era un motociclista se no ok cosa succede tutti e due e lasciano gli abiti di questa vita si alleggeriscono tutti e tre scusa padre già era libero osservano le loro vite dall'alto fanno un inchino tutti e tre fanno un inchino pino come ringraziamento per averli aiutati in questa cosa va bene li salutiamo quanti sono i parenti di pino che sono accorsi entrati nel portale aura 87 solo bel passaparola altri 40 ok facciamo un richiamo come se usassimo le onde della radio nello spazio nel tempo nelle linee temporali tra piccole paroline grandi moltiplicatori 798 persone ci sono più linee temporali con più pino che fanno diverse vite in questa vita pino per esempio ha avuto da giovane un vicino di casa anziano che adesso è disincarnato e che non era così importante perché era quello del quinto piano che chi cavolo conosceva in un'altra linea temporale pino aveva lo stesso vicino di casa stessa stesse condizioni ma che era diventato un amico di famiglia e quindi arriva poiché c'è un legame quindi aprire il ventaglio alle linee temporali significa aprire veramente il ventaglio ok la ps è la stessa e disincarnato lo stesso ma è splittato insomma una follia ma è purtroppo probabilmente così per fortuna vedete lavoro come volete le cose stanno in questi termini va bene musica causa esoterica della dell'amore per la musica di pino in questa vita è come se la musica lo ricentrasse mi viene da dire come se viene distratto da cose che lo portano fuori dalla sua direzione e con la musica viene riportato al centro di sé po come sei frankenstein junior che c'è che quando sono violino lui segue la musica e torna a casa ecco un po la stessa cosa per pino quando lui ascolta la musica riesce a ricentrarsi in sé dentro di sé va bene che altro caso siete rica del fumo è l'entità mentale ma l'entità men c'è però che però perché questo vizio e non un altro allora è la prima cosa che mi fa vedere che quando era adolescente avrebbe potuto prendere altri vizi altre dipendenze ok e questa era quella più la meno peggio diciamo la più tollerabile e quindi è come se si fosse avesse preso la scusante che le sigarette erano andavano bene perché erano le meno peggio sì è come se in quel momento come in tutte le dipendenze ma in quel momento su specifico era un agganciarsi a un film finto tranquillante tra virgolette no un atto di sostegno quasi come se in eterico c'è qualcuno che ti tiene la mano e ha scelto le sigarette perché erano quelle meno era quella secondo lui in quel momento quella meno peggio ok causa esoterica della sua durezza gli si definisce duro è come se facesse un pieno fa pieno non accumula 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 e poi dopo butta fuori tutto di colpo e quindi sembra quasi aggressivo e duro ribellione l'essere ribelle più che l'essere ribelle essere fermo diciamo sulle sue credenze idee e crederci indagando scoprendo con curiosità ma in maniera è come se lo vedessi come un palo ficcato nel terreno no che quindi che non riesce a tirare non riesce a farlo spostare perché è ficcato nel terreno e quindi se se aveva un'idea in quel momento che andava contro l'idea comune della società risultava ribelle ma faceva la stessa cosa anche con altre cose che in società erano previste quindi è più che altro questo ciò che la ribellione in generale pigrizia apatia la chiamerei più apatia diciamo momentanea depressione momentanei momentanei momenti di apatia e non voglia di reagire per vedo come se avesse confusione mentale in alcuni momenti quindi non sapere da che parte iniziare e quindi diventare immobile tendenza a essere disordinato dire la stessa motivo va bene una vita la più importante di pino al di là di questa precedente allora mi fa vedere che lui è in cima a una montagna e in quel momento il suo compito è di far rotolare delle pietre delle rocce come se fossero tutte rocce rotonde tondeggianti farle rotolare dalla cima in questa pallata dove ci sono queste rocce perché è collegata a questa vita ok è come se dal il senso lì era come se fosse stato un allenamento anche come capacità di poter sollevare oggetti anche infinitamente pesanti che quindi si allenava a sollevare gli oggetti di qualsiasi tipo facendo rotolare queste rocce dall'alto verso il basso ok anche rocce molto enormi ora che bello che quello che può fare adesso esami il nostro infiltrato nella radio il mezzo radio è esatto il significato è proprio quello quindi in questa vita è portare dall'alto le basi per rendere più solido il terreno quindi ecco lo facciamo tutti i giorni un posto molto migliore con i colleghi eccetera lo facciamo adesso insieme a lui in eterico ma prima andiamo con lui al cluster li ho qui per questo per liberarsi da tutti i contratti tutte le cause esoteriche che lo hanno portato a dopo lo che abbiamo visto sono tutti contratti di tutte le sue numerose vite 1812 lì nel cluster come le vedi li vedi questi contratti e non ti sento più mi sa che hai toccato il tasto ok sono tanti fogli impilati sono tutti spartiti come se tutte le sue contratti terzo esperienze fossero musica e sono messi su scaffali lui chiama la musica è pronto a liberarsi di questi scaffali pieni di spartiti contattuali diciamo che sapendo che la musica è uno strumento per lui molto utile è come se si fosse fatto un inganno da solo no per rimanere legato ai contratti quindi no adesso sta prendendo portale definitivo e sta buttando tutto dentro benissimo ad eternum qui come lo crea lui che spesso li crea lui che spinge i colleghi a crearli le palline magiche si parte dal pavimento tra video reti in questo momento fa come se fossero dei petali che poi diventano questa sfera enorme e che manda energia in tutto il cluster andiamo all'avatar allora che succede lì niente ci guarda come 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 sfida ma per dire cosa quindi siete qua quindi cosa vuole fare di questa sua proprietà sapendo portare definitivo e la proprietà creazione programma cosa fa nel momento in cui lui ficca la sua testa e tutto il suo corpo nel portale definitivo in questo caso è come se si spegnesse di colpo e non può già più fa niente già quando fa per prenderlo bene ottimo e quindi dentro chiuso ad eterno ma anche qua ok molto bene come vedi questo pino super uomo adesso allora prima e lo vedevo un po più appesantito adesso vedo molto alleggerito sempre che porta le sue allora prima non portava le informazioni verso l'esterno ok una persona che conosceva ma è come se gli tornasse un carico energetico che lo appesantiva in questo momento invece vedo che quello che lui diffonde rimane all'esterno anzi si diffonde ancora di più quindi come se vi brasi più alto più leggero e scorre molto ok si prepari allora vediamo se fa qualcosa da solo vediamo se da solo senza suggerimenti gli viene in mente qualche cosa visto che lui è un divulgatore sta distribuendo a tutti i suoi colleghi non fate me come su come fate me con che contiene praticamente la pic come creare ad eterno bene facciamo così facciamo un gioco entro io e gli do la formula esatta della d'eterno ma gliela do in mano me ne vado entri tu i dai la formula esatta della vick entra vadim e gli dà la formula esatta dell'orgone dell'energia organica e se ne va entra chi vuoi tu per esempio il toscano egli dà la formula esatta la d'eterno veritas e così via lui alla formula esatta di tutto poi se ne va in radio e la mette nelle antenne questa informazione poi se ne va in tutte le radio del mondo contemporaneamente e la mette in tutte le antenne delle radio del mondo facciamo un arpa al contrario volta tanto sì praticamente quello che vedevo che facevano che succedeva putapest con le loro informazioni lo stiamo facendolo con le nostre e funziona d'altro nel loro posto non lo possiamo fare anche noi ne lo possiamo fare davvero perché lo fanno estrucendo un consenso che può anche essere un banale assenso noi lo facciamo perché siamo i capi perché gioco nostro perché abbiamo capito e non stiamo dicendo questa è la nuova religione dovete fare il nuovo scientologi di pino no queste sono informazioni informazioni appunto quindi il verde colore della foglia dell'erba rato inconfutabile queste sono informazioni metti le tue insieme mister x che riceve queste informazioni se vuoi e trai le tue normali personali considerazioni che succede alcuni si svegliano come se fossero stati ipnotizzati come se avessero dormito un sonno profondo ci mettono un attimo a capire cosa succedeva altri sono un po confusi qualcuno prende se ne va senza sapere perché c'è qualcuno che sta male fisicamente per il contrasto ci sono dei direttori che sono a livello mondiale più cioè quelli più importanti diciamo delle varie radio che sono importanti è come se fossero al livello più alto ce ne sono tot per ogni nazione ecco che non li vedo completamente sono umanoidi non sono completamente umani e hanno la reazione della data eterna vista di stando è scossa la radio va anche su internet quindi anche su internet con la radio disse andiamo anche in televisione è fatti in automatico andato per dire che come se avesse avuto un effetto di e riverbero anche sulle televisioni ok e questo on air in onda è eterno allora chi ascolta per esempio in macchina lavati in questo momento è come se dalla radio uscissero dei profumi molto piacevoli e ti vedo tipo come se uscissero dei pietali rosa e le persone sono si sentono più alleggerite allegre se il radio dicessero è giunta l'ora della quinta punturina perché non andare a farle siete dei coscienti se non andate a fare la quinta punturina perché questo è il sistema in queste con con queste condizioni che succede non passa quella frase nel radio non riesce a passare se il messaggio è complottisti cattivi poveri scemi questo succede come questo momento infoni dovrebbero vergognarsi e dovrebbero fucilarsi non ti vaccini ti ammali muori peccato che non è morto nessuno adesso devono pagare pur la multa non ti ammali non muore 100 euro no no questi è come se quella vibrazione della teta non bloccasse questi tipi di messaggi di ipnosi passa solo ciò che neutro reale nuova frequenza di pino 382 a le bombe qua 382 e vedi che ti dicevo che adesso sono molto salite nuova consapevolezza che era l'unico valore molto alto di pino tanta conoscenza 215 del saltato parecchio ps 78 ok la stabilizzerà sì 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 è solo e solo molto animico adesso 1321 molto bene cervello 9.9 non vuole la tavola 10 10.1 come se avesse fatto un gesto e si è spinto al di là benissimo messaggio finale di pino a se stesso allora questa immagine quando lui entra a lavoro con la sua immaginazione creatività si immagini quello che la scenografia del giorno mi viene da dire quella ideale dove passano i messaggi dell'anima della ps ok e che crei questa cosa nel suo posto di lavoro e lo stabilizzi tutti i giorni stabilizzi questa cosa con una d'eterno questa è una cosa che è venuto questa cosa qui lo abbassa molto l'idea che lui è colpevole per come ha vissuto soprattutto rispetto alle sue compagne di vita ok è un pensiero che vibra molto basso e lo tiene basso e rischia di farsi interferire nuovamente lui sono sono tutte esperienze e le deve prendere in maniera neutra come esperienze lui è stato con la fiamma la sua ultima ex era la fiamma no la sua ultima ex è stata messa quasi come davanti alla sua fiamma se non avesse incontrato la sua ex avrebbe incontrato la fiamma ma gli è stata impedito e la fiamma è presente nella sua attuale vita che è viva cioè c'è alla c'è che quella che doveva trovare che però non conosce di sempre la stessa non è cambiata no è quella potrei dirti tre anni è quella come se no tre anni fa mi viene da dire è come se si fosse messo davanti un interferenza ma era di e nella sua città se ora c'è se nella città dove viveva messaggio finale riordina le tue cose e i tuoi pensieri centrandoti con la tua creatività la ps dice lui sa cosa intendo messaggio alla alla figlia allora è su una rui e su una sfera che è una d'eterno quindi a cavalcione sull'eterno che fluttua e sta prendendo la figlia per le mani e la sta portando con lui sulla d'eterno in quel frutto diciamo se tu segui un po di quello che io ho da trasmetterti riuscire a essere più leggera e trovarla la verità la tua verità tuo benessere alla sorella alleggerisci ti del tuo pensiero di non essere all'altezza e riuscire a salire anche tu sulla d'eterno in che vola alla madre se è stata fantastica e sei fantastica se la mia migliore mamma e la braccia a chi vuole lui a tutti i colleghi della radio alla fine legge si sta dicendo alleggeritevi con questo contati vibrazioni ultimo messaggio alla fiamma come se lei non lo vedesse come se fosse in una folla e non lo trovasse più lui invece la vede in eterico e voleva andarli li sta mandando un come se fosse un filo di energia di ad eterno una fune una cima da prendere e in eterico la prende e la trascina verso di lui in maniera tale c'è l'intento è voglio trovarti ci ritroviamo come lo vedi come all'inizio ma lo vedo molto più leggero appunto che frutto sul suo ad eterno le sei spade o bastoni ancora ma non c'è più niente qualunque tipo di interferenza che abbiamo visto la ps sempre rosa la p e tulipano allora la ps mi dice nucleo energetico la piemi dice onda vibrazionale qualcosa da aggiungere e abbiamo finito qualcosa da aggiungere l'unica cosa la ps dice splendi perché splendi sempre va bene basta grazie a tutti